ciao a tutti ragazze e ragazze e benvenute sul mio canale allora io adesso vi faccio vedere la borsa che sto utilizzando in questo periodo perché non sto uscendo tantissimo tutte le volte però che esco che vado al mercato a lavorare mi porto questa borsa perché è abbastanza grande e c'entra un po di tutto ed è la borsa anche che ho utilizzato per quanto riguarda lo shopping compulsivo che ho avuto per quanto riguarda i saldi e sto parlando di questa borsa qui ed è la borsa di carpisa si vede qua il logo qui carpisa ed è abbastanza grande perché in questo periodo sto portando delle cose in giro con me perché ho delle idee per quanto riguarda il mio canale e quindi mi porto sempre qualche cosa che riguarda quello allora la prima cosa che vi faccio vedere è questo ed è un libro e si chiama l'armocromia io questo libro l'ho visto sull'instagram story di GioGio91 di Giorgia che seguo seguo anche il suo canale youtube e lei ha proposto questo libro perché con questo libro sta imparando per quanto riguarda i trucchi e tutto e quindi è il libro che io mi sto portando in questo periodo perché nel frattempo che diciamo non c'è nessuno oppure che ho un po di tempo libero voglio leggerlo perché a casa non riesco tra pulizie e altre cose non riesco assolutamente cioè non riesco a prenderlo il libro per leggerle tutto e quindi me lo porto dietro la seconda cosa che vi faccio vedere è un'agenda c'è scritto 2016 ma ovviamente non è del 2016 siamo già nel 2020 ma questa è un'agendina perché io scrivo gli appunti per quanto riguarda i video da fare su youtube la sto sto scrivendo alcune cose quindi mi serviva portarmi qualcosa dietro che posso anche strappare fogli e tutto e quindi ho preso un'agendina vecchia che non avevo ancora utilizzato e quindi la utilizzo per quanto riguarda i progetti di youtube poi andiamo avanti ovviamente sbuca il mio portafoglio mi piace tantissimo questo portafoglio l'ho comprato dai cinesi cinesi basta basta l'ho preso dai cinesi mi piace tantissimo mi piace proprio la pelle che ha mi piace il fatto che sia non troppo grande vi faccio spulciare questi sono i miei figli quando erano piccoli e pensare che adesso ha 21 anni e quasi 18 quindi sono i miei amori qui ho la carta sefora per quanto riguarda i buoni che mi hanno fatto per il compleanno li devo ancora devo ancora usufrire di questi buoni e poi ci sono altri scompartimenti che a voi non interessa nel senso che dove ci sono i soldi che nemmeno ci sono purtroppo non ci sono nel portafoglio mi sembrava brutto farvi vedere che senza piccioli perché già li ho spesi ebbene sì già li ho spesi tutti quindi non ne trovate soliti nel mio portafoglio un'altra cosa che trovate nel mio portafoglio è un pelino è questo beauty in questo beauty io tengo cose futili tra cui salviettine struccanti ma che utilizzo per le mani quando sono fuori un igienizzante mani ma io lo porto anche prima del non vi dico di cosa lo porto sempre perché in base a quello che uno fa siccome io certe volte vado all'ingrosso molto spesso quando prendi delle cose negli scaffali dell'ingrosso sapete tutti la polvere perché sono dei magazzini grandissimi e spesso tipo che so vi toccate il viso non lo so vi appoggiate sta accadendo vi appoggiate la mano sul mento sul viso così non è non è diciamo igienico e io mi porto sempre le salviettine e anche l'igienizzante per le mani perché è una cosa che porto sempre come porto sempre un pacco di fazzoletti io di norma c'è due tre pacchi di fazzoletti perché è una cosa che non deve mai mancare nella mia borsa quindi lo trovate qua e in più una penna queste di un di uno studio legale e niente ho questa penna perché ovviamente se devo scrivere nell'agenda mi serve la penna e quindi questo è quello che trovate nel mio beauty questo qui poi trovate anche un sacchetto questi sono dei sacchetti quelli che si utilizza per fare la spesa io ho queste che si infilano nella bustina che sono molto diciamo pratici e il sacchetto è questo si fa grande e poi si richiude e io lo metto così diciamo occupa poco spazio dentro la borsa poi questo è il mio portamonete io qua dentro ho le monete che mi serve per giocare a carte e in più sbuca in questo portamonete sbuca il mio bassa molalbra che sto utilizzando in questo periodo che quello di essence che questo già siamo a questo punto non so se si vede si vede già siamo oltre l'odore di fragola pazzesco e mi piace tantissimo lo sto utilizzando tanto io questo devo averlo per forza in borsa come vi ho detto ne ho diversi tipi e ce l'ho sparsi in tutta la casa e quasi in tutte le borse quindi questo è quello che sto utilizzando in questo periodo e devo dire che mi ci trovo benissimo per quanto riguarda i soldi vi faccio vedere moneta la moneta perché ancora a casa di mia mamma noi giochiamo a carte noi giochiamo a 31 e quindi non poteva non mancare i soldi a moneta poi ho il mio cellulare questo è il mio cellulare si è accesa la lampadina ok questo è il mio cellulare questa è la mia faccia e questa è la faccia della mia nipotina noi mi quando era piccolina io non riesco a non togliere non togliere questa c'è ve la voglio far vedere aspettate che c'è la notifica di questa è la mia nipotina c'è la facciona di noemi che sarebbe la bimba che molto spesso faccio vedere nelle foto dove mi trucca perché adesso ha quattro anni ma io non riesco a non togliere quella foto dove mi guardava con quegli occhietti piccolini io veramente mi sciolgo di una cosa esagerata questo è il mio cellulare del momento con il mio vecchietto qui è una cosa che mi piace tantissimo guardate il vecchietto che che fa il dottore e a me ricorda tantissimo il dottore quello lì per quanto riguarda il dietologo americano e quindi mi ricorda di stare a dieta e quindi sono in pista proprio con questo e quindi il cellulare poi penultima cosa sono le caramelle io adoro le caramelle io di norma mastico anche gomme in continuazione ma in questo periodo siccome ho avuto mal di gola e non riuscivo nemmeno a parlare perché veramente non si capiva niente di quello che dicevo avevo queste caramelle ancora ce l'ho ovviamente queste sono le caramelle del periodo e quindi vi trovate queste caramelle e per ultimo sto guardando se c'ho altre cose no vedete non ho nient'altro e per ultimo c'era questo che è il lip gloss di fenty beauty che questo è quello che sto utilizzando in questo periodo e lo riesco a mettere in borsa e quando tipo sono da qualche parte si toglie il rossetto dipende quello che faccio metto questo ed è pazzesco perché mi piace tantissimo mi fa quell'effetto particolare sulle labbra e adoro in assoluto e mi piace una cosa che mi piace quindi l'ho voluto cioè lo voglio mettere sempre in borsa e quindi me lo porto sempre dietro questo è tutto per quanto riguarda la mia borsa quello che c'è dentro la mia borsa non c'è tantissimo ma c'è diciamo lo stretto necessario specialmente specialmente se vado in giro in questo periodo quindi che mi serve il libro l'agenda e tutto perché sennò io ho una borsa piccolina e tutte queste cose non entrerebbero di sicuro niente ragazze questo è il mio video per quanto riguarda cosa trovate dentro la mia borsa io che dirvi di più vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate se vi va non ci vediamo al prossimo video ciao ciao